La faida del principe Ferri con la famiglia reale arrivò quando sua nonna, la regina Elisabetta II, giaceva morente, dicono le fonti. L'amico del principe Ferri e Meghan Markle, Umid Scobie, ha un obiettivo numero uno a Buckingham Palace, e non è il re Carlo III. Scobie, coautore della biografia Pro Sussex Finding Freedom nel 2020, ha scatenato una reazione negativa nelle ultime settimane dopo aver lanciato una serie di attacchi altamente critici contro Re Carlo, ciò ha portato gli addetti ai lavori reali a dirigere la loro furia contro lo scrittore, che ha anche fatto una serie di affermazioni su Ferri e le sue relazioni all'interno delle mura del palazzo. E anche se sembrerebbe che la sua rabbia sia diretta principalmente verso il padre di Ferri, Charles, una fonte ha affermato che c'era qualcun altro che l'autore stava cercando di condannare. La disputa è scoppiata quando si diceva che i cortigiani reali fossero furiosi per le affermazioni che la faida tra Ferri e suo fratello, il principe William, fosse scoppiata mentre la regina giaceva morente l'anno scorso. Scobie ha affermato che William ha ignorato le chiamate di Ferri, mentre tentava disperatamente di arrivare dagli Stati Uniti alla Scozia nel tentativo di essere al suo fianco prima che lei morisse nel settembre 2022. Lo scrittore ha anche affermato che non c'erano prove che Charles avesse contattato il figlio più giovane Ferri, durante gli ultimi momenti di sua maestà. Nel libro Endgame, Scobie ha detto di William. Sente di aver perso Ferri e non vuole conoscere questa versione di lui.